ciao ragazzi 5 dicembre iniziamo col calendario Aribo vediamo un po' dove il 5 è proprio sulla scritta glow in the dark che cosa abbiamo? è piccola queste sono le caramelle alla copacola mi piacciono queste mi sono sempre piaciute a me più o meno dell'Aribo mi piacciono tutte quindi io non è che sono tanto di caramelle allora vediamo un po' invece sul calendario M&M's abbiamo il bounty grosso ciao a tutti alla prossima